bella ragazzi bentornati in questo nuovo video ci siamo qua con la lisa e con la jessy e con il nuovo video bellissimo se avete anche voi uno fratellino o una sorellina che rompe un sacco le scatole mi raccomando mettete un sacco di like si 50.000 like per la seconda parte di lisa con miracoli e si lisa con miracoli e mi raccomando se volete anche comprare le nostre magliette c'è sia nero che bianco si e anche qua sotto in descrizione per andare appunto nello shop c'è anche il 25% di sconto con il codice lucas 25 è tutto maiuscolo e mi raccomando iscrivetevi ai nostri instagram lucas.web cecilia fashion official marco.zonotti e la nostra piccolina allora raga buona visione yes ciao ciao allora allora 12 ventunesimi per 84 settantottesimi allora 84 diviso 3 si poi 78 per 4 si 78 divisibili per 24 ore sei riche lisa lisa oh ceci mi fai vedere le torte più buone del mondo che sai fare su youtube ok veramente io non sono capace vorrei tanto tanto imparare ma che onore luca allora in pratica sono testi di torta ok questo è quello al caramello cioccolato ok questo per fare quello al cornflakes e questo invece la torta per fare i sciocchi d'avena ok allora adesso dobbiamo in pratica pesarli mi raccomando luca non bisogna assolutamente mischiarli perché la torta è diversa ok si posso aiutarmi allora si non fare disastri mi raccomando mi raccomando ok non sono da mischiare non sono da mischiare no ti do la pesa così pesi ok la vena ok vieni vai pure e questi lasciali pure qua vai lisa prego e niente più bucconi praticamente inizia prendiamo lì ok ok lisa no lisa no lisa cosa stai facendo no la nostra volta lisa cosa stai facendo sono i più impregiati del mondo con i cereali e adesso cosa facciamo no lisa scherzo come scherzo vieni qua questa qua la mangio oggi ci riusciresti a farmi una foto per instagram che eh te so che sarà fotografa provetta sicuramente sicuramente riuscire a farmi la bellissima foto va bene grazie dammi un attimo che sistemo le luci qua perché ok ragazzi vi serve una mano no no grazie lisa guarda fai la cosa se vedi su di me non ho letto un libro dopo giochiamo con te tranquilla tranquilla al gioco che vuoi tu d'accordo ok ok puoi leggerti non so un libro che ti piace tanto grazie ecco 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 ec Luca, vuoi giocare con me? No Lisa, guarda proprio adesso, no, perché è 5 ore che salite tanto, 5 ore cavolo, mi sono guardato i tutorial su YouTube per gli effetti speciali, cioè qua lo chiede a zombie cioè, è veramente un disagio poi tra l'altro devo ancora salvare cioè, 5 ore di editing me ne so, poi devo ancora studiare per le verifiche cioè, adesso mi metto subito a salvare, perché se no qua Ah, ma allora ti salire a Lisa? No Lisa, 5 ore di editing vieni qui, Lisa adesso ti prendo Ah, una vera dolce calda finalmente Luca, come al solito hai dimenticato l'acchiappatoio Ah, sì, è vero, me lo prendi? Grazie, eh? Sì, sì Oh, ma che caffetto l'acqua è freddo e cazzo, è genita Mamma mia, è freddissima E anche oggi esistono i peluche come sempre Mamma mia Luca Sì, sì Mi viene a dare una mano Eh, lo hai già capito, ne? Sì, ma ormai è una cosa giornaliera Metti su, metti su, metti su metti su, metti su Mamma mia Ce ne faccio più, giuro Dai, facciamo veloci Non ci pensiamo più Oh, attento, eh C'è questa una mano ma non farei disastri Opa Allora Tutto attacco questo qua Sì, oggi li ho sistemati un po' così perché sinceramente Voglio a zero di sistemarli Ok, ci si, basta così Ma poi vedremo dopo Ma sì, mettilo qua 5 Grande, Luca Possiamo andare, vai Sì A posto Allora Ok Qua il mio lavoro è finito Oh, Lisa, adesso basta Eh sì, basta, Lisa Stop Non ne possiamo più Più, più Ora rimani una settimana senza la tv No, no La tv, no Una settimana? E mi piace che piangi Hai esagerato? No No, dai, Lisa Mi spiace, caspita No, dai Dai, non piangere più, dai Basta, dai Dai, basta, gli sto piangere, ok? Non piangere più Dai, dai Tranquilla Ragazzi, speriamo Questo video che vi sia piaciuto Mi raccomando Mi raccomando Mi ha detto un bel pollicione in su Ricordate che a 50.000 Ci sarà la seconda parte E mi raccomando Se avete anche voi Dei fratellini O sorelline Che sono un po' così Roppini Commentate qui sotto Ok? Fate ce la sapete E se siete arrivati A questo punto Nel video Commentate con Hashtag Dispettoso Dispettosa E noi ragazzi Vi chiediamo in un altro video Eeeh Ciao Belli Eeeh